Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, oggi andremo a vedere i prossimi 30 giorni per quello che riguarda i single. Abbiamo due scelte, la prima scelta è questo mazzo a quadretti, azzurro, e la seconda scelta è il mazzo blu. Quindi scelta 1 e scelta 2. Ci vediamo nella vostra lettura. E benvenuti alle persone che hanno scelto il mazzo azzurro a quadretti. Andiamo a vedere l'energia generale e poi andiamo a vedere l'evoluzione nei prossimi 30 giorni. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla potete sempre ascoltare l'altra lettura. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia generale. Ok, oh, abbiamo la carta del giudizio, carta di risveglio, di presa di consapevolezza, carta anche di illuminazione direi, perché quando c'è la carta del giudizio si parla di nuove idee, si parla di nuovi... guardate, sto leggendo i tarocchi vicino a una finestra e si è appena avvicinato un uccellino. Si è fermato lì un attimo e si è messo a volare lì. Gli uccellini normalmente sono le comunicazioni, le chiacchiere, quello che arriva veloce. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi. Nel caso voleste contattarmi trovate il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video e nella playlist trovate già tutti gli oroscopi del 2023. Ne ho pubblicati quattro. Se volete vederli potete vederli attraverso la playlist. Allora cominciamo con un fante di denari, una regina di denari. Abbiamo un 5 di bastoni e la carta del cavaliere di spade. Allora, sento che questo fante di denari è una persona che già conoscete o che comunque... sì, potrebbe anche essere una persona del passato, perché vi ricordo che abbiamo la carta del giudizio come carta tema. Quindi potrebbe anche essere una persona già conosciuta, già frequentata. Non necessariamente una persona che abbiate già, diciamo, frequentato da un punto di vista romantico. Però sì, sento che è una persona giovanile, sento che è una persona piena di entusiasmo, diciamo così. La regina di denari potrebbe essere la vostra energia e se così fosse vi sento un pochettino presi, diciamo così, dalle cose materiali in questo periodo, dalla vita di tutti i giorni. Il 5 di bastoni normalmente è una carta che indica competizione, è una carta che indica discussioni piuttosto che... sì, competizioni. È come se fossi in una fase competitiva, mi viene da dire, no? Probabilmente state lottando per qualche cosa. Allora, il cavaliere di spade è anche qui, potrebbe essere una persona potrebbe essere un'energia. Se fosse una persona... devo dire che potrebbe essere una persona piuttosto fastidiosa, nel senso che è una persona magari un po' arrogante, un po' invadente. Se fosse invece il vostro atteggiamento, sento che in questo genere di discussioni manca un po' una linea conduttrice, mi viene da dire. Andiamo avanti, vediamo che cosa vi dicono. Asso di denari al contrario, il mondo e il 2 di bastoni al contrario. Guardate, è interessante perché da un lato c'è quello che è un non inizio, se vogliamo, perché abbiamo l'asso di denari al contrario. Dall'altra parte c'è la conclusione, però c'è il mondo, che è una carta di grosso compimento. Il mondo indica anche trasferimenti, molte volte, o viaggi di lunga percorrenza, di lunga distanza. Ho un po' la sensazione che in questo periodo arriverete al completamento per quello che riguarda l'idea che vi siete fatti di una persona, e potrebbe essere questo fante di denari. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Cerco di darvi delle informazioni in più. Intanto, per chi non lo sapesse, vi dico che ho pubblicato un video inerente il nuovo corso di tarocchi che si terrà a fine gennaio del 2023. Trovate il link del video qui sotto nella descrizione, e lì spiego un po' il programma e le modalità di svolgimento del corso. Bene, andiamo a vedere questo fante di denari. Abbiamo un asso di spade, la carta della morte, un sei di pentacoli, di nuovo la carta del giudizio e la carta dell'imperatrice. Tre arcani maggiori su cinque, devo dire che credo che vi siate adoperati per aggiustare determinati equilibri. Sia la morte che l'asso di spade sono due carte che tagliano, tagliano quello che non serve più per andare avanti nel proprio obiettivo. guardate, avendo l'imperatrice può esserci qualche cosa che ha a che fare con la madre, o vostra madre, o voi in quanto madri, o se non siete madri, voi o padri, voi in quanto madri di voi stessi, come riuscite ad essere amorevoli nei confronti di voi stessi, uomini o donne che siate. L'archetipo della madre è l'accogliere, il sostenere, il guidare, il proteggere. in luce, quando è in luce. Ok, andiamo a vedere la regina di denari. ragazzi, due di coppe. Ho la sensazione che si siano messe le cose in chiaro con questo fante di pentacoli, o si metteranno le cose in chiaro con questo fante di pentacoli, che ripeto, per qualcuno potrebbe essere una cosa del passato. Ed è come se si scendesse un attimino a compromessi con questa regina di pentacoli. Ho la sensazione che sarà più un... perché comunque qua c'è sia un set di spade che un fante di spade. Quindi qui c'è qualche cosa o che non è stato detto o che deve venire a gale. Di conseguenza questo fante di spade rappresenta il controllo. È un po' come se sarete in una fase dove vorrete vedere i fatti. Ok? C'è il compromesso, c'è il due di coppe, quindi c'è questo incontro, c'è il venirsi incontro. Ok? Però c'è anche qualche cosa qua che, insomma, un po' stride con questo set di spade. Potrebbe anche essere che qualcuno vi abbia raccontato, insomma, delle bugie e che ci sia stata una sorta di piccola delusione. Piccola perché in realtà non vedo torri o tre di spade per adesso. Ok, quindi... Però c'è un due di coppe. C'è un accordo, c'è un incontro, un compromesso. Ripeto, potrebbe essere questa persona che torna dal passato. Andiamo a vedere il cinque di bastoni. Abbiamo il re di bastoni e il tre di coppe. Può essere, ragazzi, che per qualcuno ci sia una terza energia coinvolta. Per qualcuno, ripeto, potrebbe essere semplicemente un genitore, una figura genitoriale che mette un po' troppo il becco o che ha bisogno di... del vostro tempo, magari, che quindi vi distrae da questo tipo di conoscenza o da voi stessi. C'è comunque un re di bastoni. Sento che molte persone hanno in testa qualcuno. Andiamo a vedere questo cavaliere di spade. Un altro cavaliere di spade e il quattro di coppe. E qui c'era un dieci di spade, visto che è caduto lo teniamo. Allora, qui c'è un sette di spade e qui c'è un dieci di spade. Il dieci di spade è una carta di sofferenza, o meglio, è una carta di fine sofferenza. Io credo che qui qualcuno abbia una situazione in sospeso, che in qualche modo crei questo dieci di spade, no? Probabilmente l'altra persona non si rende molto conto di di essere un po' troppo invadente, diciamo così. E questo comunque a voi crea una sorta di cecità, mi verrebbe da dire, perché comunque abbiamo un quattro di coppe. È come il vedere che una persona sta male, ma non capire come gestire la questione per non star più male. Andiamo a vedere l'asso di denari. Per molte persone il cavaliere di spade siete voi che probabilmente avete una... come vi posso dire? Una sorta di incasellamento mentale su come deve essere gestita una relazione e questo crea sofferenza. Diciamo che in questo caso potrebbe essere utile magari essere un po' più flessibili, dare spazio anche all'altro e alle esigenze dell'altro. Non c'è un solo modo di stabilire la relazione, ma l'importante è che sia una relazione che funzioni per le parti. Poi quello che dice la gente fondamentalmente non importa a nessuno. Allora, l'asso di denari è spiegato dal solo al contrario e da un sette di pentacoli. Sì, allora, ho la sensazione, come vi dicevo, che potrebbe essere qualcuno che risale tanto tempo fa e potrebbe anche essere qualcuno della vostra cerchia di amicizie. È come se ci fosse una sorta di trasformazione della relazione che avete con una persona che già conoscete. Ci sono dei lati che vi piacciono di questa persona, dei lati che siete riusciti a far collimare. Altri lati, secondo me, con questo cavaliere di spade che fondamentalmente appunto sono troppo rigidi, quindi non si riesce a incastrare bene, per quello che non c'è questo reale inizio concreto che vediamo qui con l'asso di pentacoli al contrario. Però poi abbiamo il mondo. Allora, se non fosse una persona del passato, ragazzi, io credo che vi renderete conto, con la carta del giudizio, di una persona intorno a voi che in qualche modo sta cercando di avvicinarsi. Fate attenzione a questo set di spade perché comunque sento che c'è qualche verità omessa. Andiamo a vedere adesso il mondo. Abbiamo un 3 di pentacoli e un 9 di bastoni al contrario. Guardate, sento che si arriva a trovare un accordo. Il 3 di pentacoli è una carta di collaborazione, il 9 di bastoni al contrario è una carta che ci dice che si sono un po' abbandonate le barriere, si è un po' lasciato andare. Quel controllo che si vedeva qui con il fante di spade, ok? Diciamo che alla fine di questi 30 giorni c'è quello che è un compimento. Andiamo a vedere questo 2 di bastoni al contrario. Guardate, 6 di coppe e la regina di spade. Sì, qui ho la sensazione, ragazzi, che siate voi, che siate un po' in questa sorta di confusione mentale. Vi ripeto, quando c'è la regina di spade si parla di morale, di rigidità, ok? Io credo che se voi impariate a diventare un pochettino più flessibili, più malleabili, meno attaccati, se vogliamo, a quello che è l'amore romantico, al come dovrebbe essere una relazione, sento che ne gioverete. Perché qui fate fatica, con questo 2 di bastoni al contrario, fate proprio un po' fatica ad essere positivi e propositivi verso quello che è il futuro, cioè rispetto al futuro. Però guardate, allora, può essere sia che ci sia una persona che ritorna dal passato, oppure può essere una persona del vostro giro, magari non proprio di amici, diciamo più di conoscenti, se vogliamo. Non è proprio un amico stretto o un'amica stretta. Però sì, potrebbe esserci qualcuno che, diciamo, si fa avanti un po' furtivamente, mi verrebbe dire. Un po' c'è, un po' non c'è, perché comunque abbiamo l'energia del sette di spade e del cavaliere di spade. Però ecco, diciamo che è una cosa che sento che è come se iniziasse piano piano. In effetti c'è anche un sette di pentacoli che ci parla di pazienza. Andiamo a vedere con gli Ching dell'amore, che consiglio vi vogliono dare, poi andiamo a vedere un oracolo, un altro oracolo. Pienezza, wow! Ve lo metto vicino al mondo che è una carta di completamente, è una carta numero 55, se vi interessasse è anche un numero doppio. il gioco dell'amore. Wow! Sì, lo sento un po' qua, è perché il cavaliere di spade ha un po' questa energia, vai e vieni, un po' ci sono, non ci sono, è un po' il mordi e fuggi, è un po' il... ok, sì, è stato bellissimo, ma ora devo scappare. Quindi c'è un po' questa energia. Giocate, giocate, divertitevi nel osservare le dinamiche che ci sono con questa persona, le dinamiche di, diciamo, tira e molla. Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo. Uh, anche questa è... guardate. Fate attenzione, perché effettivamente quando c'è questa carta del cavaliere di spade c'è sempre un'energia molto irruente, molto impetuosa, è un po' come vi dicevo prima, sembra anche quasi invadente. E di fatti qua c'è la carta che raffigura il martello fondamentalmente e indica che c'è qualche cosa che martella, qualche cosa che è persistente, che è ripetitivo, ok? E poi andiamo... wow! La fenice, nuova fase, rinnovamenti, trasformazioni, crescita, cambio di mente. Bellissime carte, devo dire. Bene, amici del gruppo 1, io spero che la lettura vi sia stata utile. È interessante, fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Io spero che, insomma, come vi dicevo, che vi sia stata utile. Se sì, potete mettere un like, potete iscrivervi, potete condividere, commentate, che a me fa sempre piacere vedere i vostri commenti. Ogni tipo di aiuto per me è molto importante. Io vi mando un abbraccio forte e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo blu. Andiamo a vedere l'energia generale e poi andiamo a vedere con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla, potete sempre ascoltare l'altra lettura. Se poi volete contattarmi, trovate il mio indirizzo e mail sotto nella descrizione del video. Wow! Avete la carta degli amanti! Quindi, ragazzi, si parla proprio di amore, si parla di nuove conoscenze. Potrebbe anche essere amor proprio, eh? La carta degli amanti è l'amore in generale, però normalmente fa riferimento all'inizio di una relazione, a un amore corrisposto, equilibrato, ricambiato, a quello che si chiama un amore con la maiuscola, quello sano, quello che non fa, quello che non distrugge. Perché non è detto che non faccia soffrire, le discussioni si hanno sempre, no? Ci si confronta e si impara l'uno dall'altro. Però ecco, non è quell'amore distruttivo, diciamo così. Va bene, andiamo a vedere con i tarocchi. Se poi voleste vedere le previsioni del 2023, ho già pubblicato gli oroscopi, sono quattro in totale, e li trovate nelle playlist del canale. Se poi voleste partecipare al corso di tarocchi che inizierà a gennaio 2023, anche lì ho pubblicato un video, e trovate il link sempre qui sotto nella descrizione, dove spiego il programma del corso e le modalità di svolgimento. Ragazzi, avete delle carte bellissime. Partiamo con la temperanza, il re di bastoni al contrario, il tre di coppa al contrario, la ruota della fortuna, e il sei di pentacoli. Andiamo a vedere come terminiamo la stesa. un asso di bastoni. Allora, diciamo che iniziare con la carta della temperanza direi che è positivo, perché è una carta che ci parla di equilibrio. Anche voi avete una carta di equilibrio, un sei di pentacoli. Quindi vi sento in una sorta di armonia interna, mi viene da dire. O probabilmente qualcuno arriva, perché potrebbe anche essere così, arriva da una fase di guarigione, arriva da una fase di lavoro interiore, e di riequilibrio delle energie, diciamo tra cuore e mente, ok? Perché è anche un po' quello. Il re di bastoni potrebbe rappresentare una persona, magari una persona che è vicino a voi. Per qualcuno può rappresentare un padre, e per qualcun altro potrebbe essere semplicemente una persona sulla quale avete puntato gli occhi. Se foste voi, sento che è un... come vi posso dire... vi siete un po'... è brutto da dire, però... incancreniti in una situazione mentale e fisica che non vi fa stare troppo bene. nel senso che sento un po' come se foste non dico isolati dal mondo, ma fuori dalla società. Ho la sensazione con questo re di bastoni del contrario che abbiate qualche tipo di difficoltà, se vogliamo, a gestire quello che è il lato fisico in questo momento della vostra vita, il lato gestionale. ma perché siete focalizzati all'interno e quindi è come se l'esterno lo lasciaste un po' in secondo piano. Qui avete bisogno di chiudere un karma, di chiudere un ciclo, c'è la ruota della fortuna, c'è bisogno di fare un cambio, ok? E qui lo si vede, ragazzi. Guardate, qui ho un asso di bastoni che è un inizio, ok? C'è un sei di pentacoli, di nuovo, qui si parla di dare, ma dare il giusto, di qualche cosa che è equilibrato. È una carta di scambio sei di pentacoli, ok? Ho l'impressione che questo re di bastoni sia qualcuno di cui non vi fidate, ma ve lo dico dopo. Perché è un po' il centellinare il proprio tempo e come vi dicevo, la carta degli amanti parla sì di amore, diciamo in senso generale, ma anche di amor proprio. E con questa carta lo sento tanto. È un, ok, ti do, ma ti do il giusto. Do un po' a te e un po' a me. Qui abbiamo un asso di bastoni, mi può parlare di un incontro proprio di tipo fisico, di tipo intimo con qualcuno, ragazzi. E poi abbiamo un sei di spade che è un po' un allontanarsi da certi, da certe idee che potremmo, eh, potrebbero essere qua. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Così vi dico qualche cosa in più. Perché il sei di spade è sempre una carta che dice di lasciarsi andare indietro, cioè di lasciarsi indietro certi atteggiamenti e soprattutto certe credenze limitanti o problemi o anche abitudini che riguardano il passato, che si sono acquisite durante l'infanzia. Normalmente è una carta che parla di questioni molto remote, di attitudini e pensieri ben installati nella nostra mente da tantissimo tempo e che è il caso di rielaborare e di lasciare indietro, ok? Andiamo a vedere la carta della temperanza che in questo mazzo si chiama la carta dell'alchimista. Sì, direi che qualcuno era o è ancora in fase di guarigione. c'è questo tra di spade al contrario e il lotto di spade. Sento che siete in una fase un po' pessimista vi direi perché comunque quando c'è l'otto di spade si parla sempre di un'energia pesante, di pensieri autoboicottanti, di pensieri circolari, sono quei pensieri che a furia di essere sempre quelli diventano quasi tossici, sono quei pensieri che creano il mulinello che vi porta giù. Andiamo a vedere il re di bastoni perché potrebbe essere la persona che vi ha causato. Abbiamo una regina di coppa al contrario sì, direi di sì. Nel caso fosse la vostra energia come vi dicevo vi sento tanto nel mondo interno, questa è la carta del ricercatore e qui comunque con la regina di coppa al contrario ci sono questi alti e bassi emotivi. Credo che qualcuno qui fosse anche innamorato o perlomeno avesse dei sentimenti molto forti nei confronti di questa persona. Andiamo avanti con il 3 di coppa al contrario. Abbiamo un 3 di bastoni e la ruota della fortuna. c'è voglia di cambiare qualcosa la ruota è uscita anche qui c'è voglia di cambiare qualche dinamica per qualcuno c'è voglia di andarsene letteralmente perché abbiamo comunque un 3 di bastoni che è una carta che parla di progetti già iniziati o di qualcuno che comunque si sposta per migliorare. andiamo a vedere la ruota della fortuna di nuovo il 6 di pentacoli e il 10 si io sento che qui qualcuno ha bisogno di lasciarsi indietro questa sofferenza ma è un'attitudine mentale lo vediamo qui ragazzi o è successo qualcosa qui con questa persona una cosa in particolare potrebbe essere un tradimento perché qui comunque è anche un 3 di coppe e qualcuno che se ne vuole andare che vorrebbe cambiare quindi potrebbe anche essere che avete vissuto un tradimento da parte di qualcuno non necessariamente deve essere un tradimento potrebbe perché abbiamo un 3 di coppe ma non necessariamente deve essere una terza persona all'interno della coppia potrebbe anche essere il tradimento nel senso che magari la persona non lo so abbia raccontato una bugia e ha tradito la vostra fiducia ok senza necessariamente esserci una terza persona in mezzo però per qualcuno sì che c'è la terza persona andiamo a vedere il 6 di pentacoli cavaliere di bastoni e la sacerdotessa ragazzi sento che diciamo nella seconda parte del periodo potrebbe arrivare questo cavaliere di bastoni e avendo anche la sacerdotessa vi dico che è un po' come se vi toccasse nel profondo perché comunque la sacerdotessa è una carta che parla di intuito di intuizione di percezione di anche passività certe volte è una carta che parla di un forte divino femminile ok andiamo a vedere l'asso di bastoni perché ho proprio l'impressione che sarà questo cavaliere di bastoni che ragazzi io credo sia una persona nuova è come se ci fosse una prima parte della lettura dove cercate di uscire da una vecchia storia e la seconda parte della lettura arriva qualcuno succede qualche cosa di nuovo andiamo a vedere sì c'è questo incontro ripeto può essere anche un incontro intimo per qualcuno però diciamo che resta lì per adesso nel senso che con questo asso di coppa al contrario il 3 di pentacoli al contrario è un po' come se vi dicessero è un po' troppo presto per fare progetti è un po' troppo presto per lasciarsi andare per aprire il cuore ok non dite sempre tutto subito alla persona aspettate di conoscere aspettate di cioè datevi anche il tempo di sentirvi comodi nell'affrontare certi discorsi andiamo a vedere il 6 di spade la cosa vi dovete allontanare un altro 6 di spade e un 7 di bastoni è come se l'atteggiamento da cambiare qui dovesse essere il aperte virgolette se non ci penso io a me chi ci pensa chiuse virgolette sono sempre da solo a combattere devo guardarmi perché c'è la carta delle 7 di bastoni è la carta della lotta solitaria è la carta di qualcuno che fondamentalmente si difende da solo da tutto il resto e questo è un tipo di attitudine secondo me che bisogna lasciarsi indietro anche perché giustamente avendo la storia di coppa al contrario è riferito a un non inizio da un punto di vista emotivo ma è anche riferito al fatto che c'è un quarto chakra un po' contratto un po' chiuso e qui probabilmente c'è bisogno di fare un lavoro anche qui la regina di coppa era al contrario è fare un lavoro interno so che siete sulla buona strada in questo senso potrebbe anche esservi utile magari indossare un quarzo come un quarzo rosa una malachite una venturina verde una giada verde che sono tutti i quarzi che aiutano a colmare i vuoti del cuore andiamo a vedere un cing dell'amore andiamo a vedere che carta vi danno e poi andiamo a vedere un oracolo però ragazzi fuochi d'artificio è qui ve lo dico una persona e arriverà e sarà anche molto passionale vi dico io credo che potrebbe essere una persona passionale potrebbe essere una persona anche molto sensibile per certi versi e intuitiva sì è un po' come se vi come vi posso dire poteste pensare ok con questa persona posso tra virgolette lasciarmi andare posso sentirmi al sicuro non mi devo più difendere dalle donne o dagli uomini ok andiamo a vedere con gli cing l'usura del tempo carta numero 23 questa carta parla allora vedendola inerente a questa zona della lettura credo che qui veramente ci siano dei pensieri da lasciare indietro perché alla fine con il tempo queste cose logorano e sono queste attitudini questi pensieri di cui parlavamo qui e poi anche un modo come un altro per ricordarvi che comunque le cose con il passare del tempo cambiano non sono sempre le stesse ok wow è uscita anche la prima la prima lettura andatevelo a vedere io ne estraggo un'altra wow allora questa carta parla di empatia e di narcisismo dei due paradigmi molto interessante perché avete la carta degli amanti che parla di amor proprio e poi abbiamo essere usati e dover mettere delle barriere le barriere le vediamo qui sì questa carta invece la sento collegata molto più con la prima parte della lettura con questa zona probabilmente siete incappati in una persona potenzialmente egoista o con tendenze narcisistiche narcisiste non so come si dica comunque i narcisisti ragazzi sono come vi posso dire il detonatore per il nostro risveglio spirituale a tutti nella vita prima o poi ne capita almeno uno a tutti proprio perché sono il detonatore per sviluppare l'amor proprio bene io spero comunque la lettura vi sia stata utile diciamo che comunque le cose si prospettano bene quindi è questione di tempo portate un attimino pazienza cercate di elaborare il tipo di sofferenza che avete dentro e cambiate l'attitudine prima di infilarvi a livello emotivo in quest'altra storia in quest'altra relazione perché è un po' quello no ricordatevi che non c'è carnefice se non c'è vittima se ci si smette di comportarsi da vittima automaticamente l'altra persona non può essere carnefice però se noi ci sentiamo vittime e ci comportiamo da vittime gli altri lo percepiscono chiedetevi che tipo di persona volete essere io vi ringrazio di nuovo di essere stati qui con me se la lettura vi ha aiutato potete mettere un like potete iscrivervi condividere commentare ogni tipo di supporto per me è importante vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao ciao